La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti, bentrovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, le prime pagine in particolare per vedere quali sono i principali argomenti. Partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, vediamo quindi le notizie di carattere nazionale. Ancora Covid in primo piano, vediamo Covid Resort in Campania. C'è la stretta sulla Movide, in arrivo strutture per malati in via di guarigione. Obiettivo liberare gli ospedali, nuovo record di contagi in un giorno, 295. Giro di vite contro gli assembramenti, arrivano a quota 295. Nuovo record dall'inizio dell'epidemia, i nuovi positivi al Covid-19 di ieri in Campania. Sono 50 più del giorno prima, a fronte di un numero di tamponi più basso. Siamo in tema, la difesa dal virus, influenza e il vaccino non basta. Il governo lo cerca in Europa. Per quanto riguarda invece lo sviluppo, in particolare lo sviluppo del mezzogiorno, vediamo su 800 mila posti a rischio, ma arrivano 140 miliardi. L'audizione del ministro Provenzano da evitare la ripresa senza occupati. I fondi tra i recovery ed europei dal 21 al 27. Le altre notizie, le camere ferme, il Parlamento, il regno del rinvio e della tattica. C'è un modo molto semplice per dimostrare quanto siano inutilmente costosi, anche se 100 parlamentari basta non farli lavorare o dare l'impressione che perdano tempo senza concludere nulla. A quel punto anche estrarli al sorte, come proposto da Grillo, rischia di essere una procedura troppo dispendiosa. Si potrebbe aggiornare una vecchia idea di Berlusconi, che una volta propose di far votare in aula solo i capigruppo e immaginare una Camera e un Senato dove siede un solo rappresentante per partito. E poi il flop del reddito di cittadinanza, centri per l'impiego, se le offerte di lavoro sono zero. Ancora il caso, scuola, il caos del concorsone, spacca il governo. Nella fotonotizia, centro pagina Napoli, allo sbando e la galleria è chiusa, le auto sul lungomare per almeno tre mesi. Per il calcio da Genova, Genova shock, esami shock, sono 14 i positivi della squadra del Genova. Genova ha paura anche per il Napoli, che domenica ha giocato proprio contro il Genova. La squadra affrontata domenica al San Paolo, tamponi anche per gli azzurri. Intanto domenica c'è la Juve. La lotta a Scudetto, ho rifatto un sogno all'improvviso. Andiamo di taglio basso, la politica. Andiamo in Regione Campania, dove ieri il neoconfermato governatore ha varato la nuova giunta, che lo seguirà nei prossimi cinque anni. Vediamo, De Luca vara la giunta, c'è la squadra, sei sono le conferme. Morcone alla legalità. E poi il crepuscolo dei grillini, Movimento 5 Stelle, dallo streaming al conclave con le auto blu. Sempre di taglio basso, Vaticano, la nuova mappa del potere. Chi comanda con Francesco, ritorno dei conservatori moderati. Ancora fondi neri, affari sospetti, caso Becciu nel Mirino, operazioni da 500 milioni. Per la fotonotizia, SOS a Mattarella, gambe amputate dopo la lite stradale, aiutate mio figlio. Andiamo a vedere invece quali sono le notizie nei box sotto il titolo di testata. L'intervista a Lang Lang e Beach, le mie variazioni tra gold e il jazz. E poi il saggio di Fiore, la pandemia del 1836, quante analogie con l'incubo coronavirus. Ancora l'impresa, tennis, la favola di Lorenzo, record napoletano al Roland Garros. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Continuiamo sempre sulle prime pagine. Andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. Quindi vediamo quali sono i principali titoli per il salernitano. In apertura si parla del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno. Andiamo in particolare a Sarno, vediamo sommersi da acqua e fango. A Sarno corsa contro il tempo per ripulire le vasche, allagamenti e sgomberi dall'area nord. All'Irno, a Salerno pronta la richiesta di stato di calamità. Pagani e Angri esondano solo Frana e Rio. E poi ancora centropagina, scuola, finalmente si riparte, ma nell'agro è ancora stop. Salerno, 110 mila studenti in classe, via libera a Cava, rinvio a Nocera. Andiamo di fondo il dossier. Cemento e roghi rendono fragili i territori. Siamo quarti in Italia e poi il caso, il boss non vuole il giudizio nell'aula, dedicata a Nocera, alla sua vittima. Per le notizie in alto, l'allarme a Eboli, batteri killer in ospedale. Così è morto l'anziano, effettuata l'autopsia sul cadavere di Vito Amabile. 72 anni, ebolitano, deceduto lo scorso mese all'ospedale Cotugno di Napoli, dopo essere stato ricoverato a Eboli. Quindi è arrivata l'autopsia che conferma la contrazione di un batterio killer. Andiamo a centropagina, epidemia, escalation, contagi, 11 positivi nel centro Sprar, 27 casi in un giorno. SOS a Ponte Cagnano, gli infetti in quarantena, scafati nel polo Covid, occupati tutti in 59 posti letto. Tornano a crescere i contagi nel Salernitano, sono 27 nuovi positivi, di cui 11 a Ponte Cagnano, 6 a Scafati, 2 a Tessa, a Nocera Inferiore, Sarno, Angri e 1 a Colliano, San Marzano, Cava dei Tireni e Agropoli. A Ponte Cagnano e allarme nel centro Sprar, infetti in isolamento. L'assistenza a ASL, disco verde per l'analisi dei tamponi, all'Umberto I. E poi andiamo in basso, i film di De Filippo, il verde si trasforma in set, Chuck della pellicola di Rubini riapre il massimo cittadino. Lo sport salernitana, difesa a 4 in Coppa Italia, riecco Capezzi. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, vediamo per le cronache, la prima pagina di le cronache del mezzogiorno, torniamo quindi sulle pagine di carattere nazionale, vediamo la ricerca italiana, il latte materno batte il Covid, anche se la mamma è contagiata non lo trasmette al neonato durante l'allattamento, straordinaria ricerca condotta dalla città della salute di Torino. E andiamo in alto, si parla del processo sul caso Gregoretti, che vede imputato l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, vediamo il centro-destra alla sbarra con Salvini, sul caso Gregoretti, gli alleati saranno a Catania per sostenere il capitano. Nelle stesse ore in cui Matteo Salvini sarà nell'aula di Tribunale di Catania per l'udienza preliminare sul cosiddetto caso Gregoretti, il centro-destra unito si ritrova in piazza nella città siciliana per manifestare solidarietà al leader della Lega, che come dice Giorgia Meloni, ha fatto quello che la maggior parte degli italiani chiedeva difendere i confini nazionali. E andiamo avanti, la politica, gli scontri all'interno della maggioranza, PD e 5 Stelle in conclave, gli scontri interni sull'agenda di governo da definire. Ancora andiamo avanti, si torna a parlare del caso tridico, dello scandalo, soprattutto sia dell'aumento dello stipendio del presidente dell'Inps, ma anche di altri problemi che ci sono all'interno proprio dell'Inps, si parla in particolare della cattiva gestione dell'ente. Vediamo tridico lo scandalo delle 200 mila domande di cassa integrazione, non è solo lo stipendio il vero scandalo, ma la gestione dell'Inps. Ora si scopre che le domande cighi in sofferenza sono dieci volte di più di quelle che aveva dichiarato. Andiamo avanti, ci spostiamo di spalla, la scoperta su Marte C'è vita, lo dimostrano i suoi laghi salati venuti alla luce. Poi la curiosità, l'Europa pronta a cancellare i centesimi di euro, molto fastidiosi. Questa è la prima pagina di Cronache del Mezzogiorno, andiamo sulla prima pagina di Le Cronache, vediamo. In apertura, Bonavitacola unico Salernitano, Mastella ride, Demita no, ecco la giunta di De Luca, il governatore brucia i tempi, Matera è fuori, la new entry Mario Casillo rifiuta di dimettersi e resta a bocca asciutta. E poi Sarno rivive il dramma del 98, appello di Canfor. Ancora l'autopsia conferma, Vito Amabile è morto per il batterio killer all'ospedale, durante il trasferimento dall'ospedale di Eboli al Cotugno di Napoli. Ricordiamo che era ricoverato all'ospedale di Eboli per una caduta dallo scorso agosto. Andiamo di fondo, Salerno, Trincerone Esti, il vero scandalo e il sindaco Napoli tace. Poi l'intervista a Tommaso Pellegrino, darò voce ai territori dimenticati al parco, andrà il suo vice. Per le notizie in alto, epurazione dopo il flop, esposito caccia a Sica, vanno via tutti i giovani della Lega. E poi ancora scuole chiuse nell'agro, a Salerno e Causa, al nautico dipendente positivo, chiusa la Posidonia, ingressi falsati, ingressi sfalsati in molti istituti. Questa è la prima pagina di Lecrona, che per la città, vediamo, si parla del caso di contagi a Ponte Cagnano, in un centro di accoglienza, vediamo, migranti e volontari prigionieri del virus, questo è il titolo per la città, al centro sparare di Ponte Cagnano, 11 casi fra gli ospiti, disposto isolamento degli operatori, la struttura è off-limits, record di contagi in Campania, in provincia ne sono 25, scafati, dipendente positivo, chiuso il market. E poi nella fotonotizia, l'emergenza maltempo, andiamo a Sarno, incubo di Sarno, vasche piene e si rivive l'incubo del 98. Ancora, per quanto riguarda invece le notizie riportate di fondo, la sanità, due tac per i ruggi, ha annullato l'appalto di 4 milioni. La scuola, concorso per prof, parte l'assalto a 32 mila cattedre. Per l'università, la scelta dell'Unisa, non ci sono tasse per metà studenti, mentre a Nociare Inferiore, Mariniello e ai giudici, non mi processate nell'aula barbarulo. Andiamo di spalla, regione, nuova giunta, De Luca in equilibrio tra tecnici e politici. Poi il ballottaggio, Pagani, partecipate al centro delle intese, ancora Angri, sceglie Mauri, l'assente Giordano. Per le notizie a centropagina, Salerno si torna in classe, ma c'è il rebus del trasporto e poi sul litorale, flagello acqua, stabilimenti distrutti. In basso il calcio, Salernitana, incastrocessioni, Jelove e Orlando al passo dall'addio, c'è Capezzi, Idea, Antonucci, questo per il mercato. E poi invece andiamo a Napoli, nel Genoa, 14 infetti, allarme anche per il Napoli che domenica scorsa ha affrontato proprio la squadra. Queste le prime pagine, torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto partendo proprio dalle spine del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo visto dalla prima pagina del mattino nazionale, vediamo dallo streaming alla fuga in campagna, con l'auto blu, il crepuscolo dei grillini, vertice di crimi con i ministri in agriturismo, lo spettro di un congresso lungo 5 mesi, lo slogan è il ritorno alle origini, ma niente pareti di vetro, scatolette di tonno da aprire. C'è chi dice, sembra l'Udeur di Mastella, sui social offensiva degli antigovernisti, adesso Dibba. E poi Gregoretti, per quanto riguarda il caso Gregoretti, durante il processo a Catania, gli alleati saranno in Sicilia accanto al leader della Lega, vediamo Gregoretti, alleati in soccorso di Salvini, Meloni va a Catania e Silvio manda a Forza Italia. Sabato parte il processo contro l'ex ministro, il carroccio da giovedì in città, eventi per tre giorni. Chiudiamo questa pagina, andiamo ora invece a parlare della regione Campania, in particolare dopo che il presidente De Luca ha varato la nuova giunta tra conferme e new entry, vediamo le scelte in regione Campania, De Luca apre in giunta a Renzi e Mastella, confermati sei assessori dentro Morcone, Caputo, Filippelli e Casucci, il governatore tiene per sé le deleghe a Sanità e Trasporti, malumori nel PD, vediamo chi sono i componenti della giunta, confermato Fulvio Bonavitacola che resta vicepresidente con delega all'ambiente, confermato anche Ettore Cinque al bilancio, commercialista di Napoli, ancora tra i confermati anche Antonio Marchiello per l'assessorato al lavoro, Fortini, Lucia Fortini resta alla scuola, Valeria Fascioni resta alla ricerca, confermato anche Bruno Discepolo all'urbanistica. Per quanto riguarda invece le new entry abbiamo Nicola Caputo all'agricoltura, Armida Filippelli sarà assessore alla formazione, Mario Morcone alla sicurezza e infine Felice Casucci, docente universitario, passa al turismo. Resta fuori il Dem Casillo, mister preferenze, non ha accettato di dimettersi dal Consiglio regionale. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo la prima pagina di Cronache Lucane, vediamo, si parla di Covid in primo piano, quindi vediamo per quanto riguarda la gestione dei casi di contagio in Basilicata, vediamo Covid sfondata, quota 200, a Marsicovettere la vera entità del focolaio spaventa tutti, oggi l'esito di altri 70 tamponi da Anzi e Laurenzana, buone nuove per i bambini, ma l'epidemia continua a colpire ovunque, scusate, a macchia di Leopardo. Andiamo in alto sotto il titolo di testata, Bardi, commissaria l'ASM, a materia il governatore annuncia la fine dell'interregno del facente funzioni annese, in piena campagna elettorale di svegliati gli appetiti, il prescelto però ancora una volta non sarà lucano. E poi troviamo l'intervista, così la Basilicata ripartirà, ecco l'agenda programmatica della consigliera del Premier Conte, Filomena Maggino, ancora per la politica, ballottaggio a Matera, da Sassone a Bennardi, secco no agli inciuci, ufficialmente nessun apparentamento. Le altre notizie, riportate di spalla, Potenza, peggio tre Galli dopo le denunce, Poggio tre Galli, dopo le denunce di cronache sull'illuminazione assente, il programma della maggioranza, ora problema risolto. E poi capoluogo, nigeriani richiedenti asilo al soldo dei clan campani, per inondare di droga Potenza, per il capo Duncu, condanna confermata. San Michele Arcangelo, protettore della Polizia stradale, della Polizia, scusate, la Polizia festeggia il suo patrono, Guarino ringrazia gli agenti che combattono tutti i giorni per i cittadini. E poi, Covid bonus, a ruoti probabili, bolla, cancellati gli omissis del Comune, adesso per l'opposizione, scatta l'operazione Verità. Andiamo in basso, lettere Lucane, la sepoltura nelle città e la sepoltura nei paesi. Questa è la prima pagina di Le Cronache Lucane, andiamo ora, torniamo sulle notizie del Salernitano, andiamo sulle pagine del mattino di Salerno, si parla dell'emergenza maltempo dopo il fine settimana di piogge, vediamo quali sono le condizioni di diversi territori salernitani, vediamo, fiumane dai canali, invadono case e vie, l'agro e l'irno in tilte, sondano solo Frana e il rio Sguzzatoio, famiglie sgomberate, fondi allagati, Salerno, pronta la richiesta dello stato di calamità con la conta dei danni subiti. e qui vediamo le operazioni dei soccorsi, dei soccorritori, paura e disagi da Nocera a Pagani, Cava, strada chiusa per l'annunziata, eboli inondato il rione Pescara. Vediamo ancora le immagini con l'allestimento anche di centri di accoglienza in diverse località salernitane, cemento e roghi, mangiano il territorio Salerno tra le quattro province nere d'Italia. Nel dossier Ispra, persi l'anno scorso 39 mila etteri di terreno, dal 2018 il consumo di suolo a quota 28%, non solo cemento, sono tanti nemici di quello che gli esperti chiamano suolo e che per i cittadini della provincia di Salerno rappresenta il verde, in cui si trovano le proprie case, le proprie attività lavorative, un declinio lento ma inesorabile quello che il territorio salernitano sta vivendo, sempre più indebolito da interventi dell'uomo oppure dai frequenti incendi estivi che rendono tutto meno resistente. Chiudiamo questa pagina, ma restiamo su questo tema perché andiamo a Sarno, dove è tornato l'incubo della frana dopo la frana del maggio del 1998 che contò oltre 160 vittime, vediamo a Sarno si scava nel fango col tempo peggior nemico, le vasche hanno retto ma sono colme, Canfora vanno ripulite con urgenza, dai monti sono precipitati anche massi, Robustelli, centro storico, fare presto. Poi vediamo qui le immagini, la preoccupazione, le strade invase dalla Melma, vediamo il sindaco Conno Giulivo, direttore regionale della protezione civile, quattro punti critici per i primi interventi, servono 500 mila euro. Il dramma, 300 vite sul filo del meteo, ad ogni allerta scatta l'evacuazione delle abitazioni. E chiudiamo questa pagina dedicata al maltempo, andiamo avanti sempre sulle pagine della provincia di Salerno, parliamo ora dell'epidemia con i numerosi casi che si stanno registrando, pare che l'ospedale Scafati, primo centro covid, per il salernitano, sia già stato, ora quindi tocca individuare altri ospedali per la cura dei pazienti. Vediamo, il virus non arretra altri 27 nuovi casi e riapre il Daproci da Ponte Cagnano, il più alto numero di contagiati, sono 11 gli ospiti del centro Sprar che risultano positivi al covid-19. Domani incontro fra i direttori generali e De Luca per reperire posti specialistici. Sindacati in campo, l'ospedale destinato alla riabilitazione pubblica, l'attività continui al ruggi. questo per quanto riguarda la decisione di scegliere, di puntare ora sul Daproci da visto che lo Scafati è saturo, come vediamo infatti in basso, Scafati, polo covid strapieno, ora attivate gli altri presidi. Occupati 59 posti letto della struttura dedicata, dimessi gli asintomatici per fare spazio a chi ha bisogno di cure. Chiudiamo questa pagina andiamo avanti, andiamo sempre, restiamo sempre però sulle pagine del mattino di Salerno e andiamo sulle pagine della provincia di Salerno. Andiamo a Eboli in apertura, si torna a parlare del caso dell'uomo deceduto al Cotugno di Napoli dopo il trasferimento proprio da Eboli è arrivato l'esito dell'autopsia, vediamo, l'autopsia conferma, anziano morto in corsia, stroncato da due batteri, inchieste in procura, per ora non ci sono sanitari indagati, i familiari dell'altra paziente ispirata non sporgono denunce. Effettuata l'autopsia sul cadavere di Vito Amabile, 72enne e Bolitano, deceduto lo scorso mese all'ospedale Cotugno di Napoli dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Eboli ed essere affetto da due batteri. ieri mattina quattro medici legali tra cui Antonio Consalvo hanno effettuato l'esame autoptico ed hanno accertato che il decesso dell'anziano è stato causato da due batteri. Andiamo avanti a Gioici Lento, Cantina Killer, la famiglia vuole la verità e poi a centropagina Ponte Cagnano Faiano, ex tabacchificio, dubbi dei comitati sul progetto. Per quanto riguarda invece le notizie di taglio basso ad Agropoli i tre consiglieri agitano la maggioranza a stufi delle decisioni calate dall'alto. Ad Auletta la frana sulla statale 19 dopo sei anni dovrebbero prendere il via i lavori. Per le notizie di spalla battipaglia, nozze d'oro per la chiesa delle rivolte dei lavoratori. Queste alcune delle notizie che troverete sul mattino ci spostiamo ora sulle cronache vediamo, parliamo delle scuole in particolare sono ripartite le lezioni molte nella gran parte delle scuole campane e anche salernitane vediamo scuole chiuse però in molti comuni dell'agro questo a causa del maltempo a luni a casa anche a Castel San Giorgio e Rocca Piemonte a Scafati ed Angri il rinvio era comunque era stato già deciso la scorsa settimana non si torna in classe a Nocera Inferiore Sarno e Nocera Superiore e poi la denuncia studenti ammassati sui pullman troppo pericoloso fatta dal sindaco di Minori Andrea Reale che scrive al governatore De Luca a Sala Consilina banchi monoposto fai da te al Marco Tullio Cicerone sono stati ricavati dagli arreti dismessi su iniziativa del docente Vincenzo Rao chiudiamo questa pagina andiamo avanti andiamo ora sulle pagine della provincia di Salerno si parla anche qui del caso dell'uomo deceduto a Eboli al Cotugno di Napoli dopo essere stato trasferito dall'ospedale di Eboli con l'autopsia che è stata effettuata sul corpo vediamo Vito Amabile ucciso da un'infezione questo è il titolo per le cronache l'autopsia eseguita ieri avrebbe confermato che l'unica causa di decesso dell'uomo sarebbe stata un virus e poi ad Agropoli pulizia terreni frontisti Coppola firma un'ordinanza apposita previste sanzioni fino a 500 euro a Eboli padre Angelo di vita lascia la guida del santuario di Santi Cosma e Damiano l'encomio civico rilasciato al Francescano dal sindaco Cariello andiamo in basso Montesano sulla Marcellana fondi in arrivo per la scuola e la rete del metano ottenuto il finanziamento per i lavori di ammodernamento e riqualificazione del presso scolastico di località Arena Bianca e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io come sempre vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti